Nata nel 1967, Caffè Goriziana celebra quest'anno i 50 anni di attività, mantenendo inutata la propria mission aziendale, qualità del prodotto, formazione professionale e innovazione. Un'attenta selezione della materia prima è un processo di tostatura, che esalta le qualità di ogni singolo caffè, si traduce nell'eccellenza dell'espresso goriziana. Eccellenza che passa anche attraverso il lavoro di analisi e sviluppo del nostro laboratorio e dei nostri baristi trainer. Per tutte queste ragioni, il caffè di Goriziana è oggi distribuito e apprezzato in più di 28 nazioni al mondo.